io a brusà a maria mi ha portato le lettere che a brusà non si è accorto delle lettere mie e del guerrino che erano lettere che le scrivevamo da soldati e sono stati brusani insomma? eh si quei dei soldati dei soldati? di brusà e brusà adesso ancora viva brusà era a maria quando gli hanno letto fuori tutto che ha fatto poesia? ma guarda grazie a te ha la tua testa che te la ti che ti ha messo via tutto eh si va bene